Andate a donare sangue, l'appello lanciato da Maria Grazia Iannuzzi, presidente dell'Avis di Andria. Le donazioni sono in calo e prosegue la Iannuzzi. Questo potrebbe essere un rischio per i più fragili e bisognosi. L'intervista. Presidente, allora, come stanno andando le donazioni ad Andria? O perlomeno qual è la situazione che registra l'Avis di Andria? Purtroppo la situazione è molto critica. Il centro trasfusionale è praticamente quasi vuoto. Questo è molto preoccupante, perché in un momento già difficile non dobbiamo dimenticare che ci sono delle persone che hanno estremo bisogno di sangue. Ci sono persone che vivono solo grazie alle trasfusioni. Quindi dobbiamo cercare di non aggiungere problemi ad altri problemi. Noi dobbiamo stare tutti a casa. Io sono a casa in questo momento, esco solo se è strettamente necessario. Però non ci dobbiamo dimenticare di chi ha bisogno di noi. Andare a donare è estremamente sicuro. Viene fatto un triage prima. Ovviamente si può andare solo se si è nelle condizioni di poter donare. Quindi non avere la febbre oltre i 37,5. Non avere sintomi che lasciano pensare che si possa avere o possa essere positivi al coronavirus. Ma al di là di questo e al di là delle normali accortezze di quando si va a donare il sangue, la donazione è estremamente sicura. Ok, ci spiega esattamente perché è importante donare, soprattutto in questo momento. È importante donare perché il sangue non si può comprare, non si può fabbricare. Lo si riceve solo grazie alla donazione. E ripeto, oltre ad esserci persone che hanno bisogno del sangue per interventi chirurgici, non dobbiamo dimenticare che c'è una gran quantità di gente che vive grazie alle trasfusioni di sangue. Quindi in questo momento lo è ancora di più, non per il coronavirus, perché il coronavirus non è un tipo di malattia che richiede sangue, ma perché in questo momento purtroppo c'è molta gente in meno che può donare o che vuole donare. E quindi la carenza del sangue è davvero preoccupante. Ci dia delle indicazioni, delle informazioni utili. Chi può donare, a chi rivolgersi, come farlo? Allora, come sempre possono donare tutte le persone dai 18 ai 65 anni che pesino dai 50 kg in su e che siano in buono stato di salute. Quindi questo, lo ripeto, oltre ad essere una propria responsabilità, lo accertano anche i medici nel momento in cui si va a donare il sangue. Ricordiamoci sempre anche che è un ottimo modo per controllare se stessi. avrete tutte le analisi a casa, analisi che volendole fare sarebbero anche costose. E quindi è assolutamente importante e indispensabile in questo momento. Io faccio questo appello anche ai ragazzi, i ragazzi che in questo momento sono a casa, non vanno a scuola, non sono all'università. Quindi hanno sicuramente un po' di tempo in più per poterlo fare. Non vi dimenticate di chi ha già bisogno di voi. Grazie a tutti.